Scusatevi, è stata la prima volta che andiamo sopra. Il concorso che dobbiamo fare è questo qui. Vedete? Questa è la famosa strada. La cera. Questa è la cera. Questa è la cera. La cera. La cera. La cera. La cera. La cera. Il castello, se si intravede, sta la cera. La cera. La cera. La cera. La cera. La cera. Vedete? La cera. questo è un mare per il calcio, ma non può essere sanno l'inguno non è possibile, ma è una grande fiazza, ma è questo gusto è un po' di più, ma è questo gusto per averlo Ci vediamo con la salita. Ragazzi si sale? Si sale? Una bella bevuta è proprio quello che ci vuole. Almeri proprio siccolari. Guardate che spettacolo. Il Vesuvio e laggiù c'è un campo di mezzi militari. Qualche base militare. Centinaia e centinaia di mezzi militari. Ce l'abbiamo fatta. Ecco il castello. Il Vesuvio. 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 Allora, non puoi riuscire a rinforare a rinforare pietraia. Pietraia non hai fatto scome, tiene. Ah, sei com'è! Hai riuscito a rinforare? Ah, vai, ragione, che... Ti vanno a trovare un soffa e ci stanno proprio i poli. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. guarda con monami seguirli size guarda con monami seguirli size